Cioè almeno lì un 50 passi lo fatti Oh mio Cioè almeno lì Cioè almeno lì Cioè almeno lì Cioè almeno lì Aspetta, aspetta Ma è scannata una volta di veloce allora Ma ragazzi metti a faccia il video Ah 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 Vai vai Sto accendendo a rai Non mi sento più, sento troppo casino E' vero, è vero, è vero, è vero E' vero, dai passi ragazzi Ah ma c'è sempre a te viva dove stai Sopriare no 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 la tripletta alza blau guarda quanto è faccio in verda o o liscio posto ma vaffanculo no no No, porco Porco Chiazzo 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 Oddio 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 Caffanculo Salute a destra Salute a destra Caffanculo Ma dove stai? Bene Caffanculo Bellissimo E' l'ultimo Caffanculo Io non credo io Dottor Noia faccio più amma roba mia? Si si ce la fai ce la fai Nooo E' salito qua sopra Grazie Mi sento come pazzi Qui su Si 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 No 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 Guarda 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 Se l'avevo tutta al ferino Non l'avevi pingata? No No Oh E' questo è morto Giuse sono due faccio pure con l'altro fatti 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 ma con ciò dai non è l'otto ma ci può finire per forza non è l'otto non è l'otto non èlotto Oddio guarda che ho fatto Ho capito che ho fatto Blasco questi mi hanno segnalato